Oggi come sede della nostra protesta per il trasferimento del periodico ogni tre anni in termini principali dei vigili urbani e dei dipendenti di uffici tecnici comunali abbiamo scelto la sede del TG5, telegiornale diretto da Mimun praticamente che è appena passato tra l'altro e abbiamo iniziato la nostra protesta proprio in questo momento come stiamo facendo in più posti della capitale per dare uno stop a questo silenzio opposto dal sindaco Gianni Alemanno e dalla sua giunta in merito di fronte alla nostra proposta di rotazione intermunicipale, ripeto, dei vigili urbani ogni tre anni insieme a quei dipendenti di uffici tecnici per garantire trasparenza e legalità nell'esplodamento delle funzioni amministrative, delle funzioni di istituto per garantire soprattutto l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ma soprattutto l'immagine stessa del corpo della Polizia Municipale e degli uffici tecnici appunto di questi comparti lavorativi. Il sindaco Alemanno ancora dopo un anno e mezzo non ci dà segni di intesa, ha demandato tutto all'assessore al personale del Comune di Roma Enrico Cavallari che dopo un anno e mezzo stiamo qui ancora ad attendere. Questo silenzio non ha motivo di esistere, lui parla tanto di legalità e giustizia, abbiamo più volte ripetuto che riterremo politicamente responsabili la giunta capitolina di eventuali casi di corruzione, concussione da parte dei vigili urbani e dei dipendenti di uffici tecnici comunali, non siamo noi a dirlo di certo ma sono gli interventi della magistratura e stiamo continuando il nostro ingatenamento tour all'oltranza finché il sindaco non ci sarà disponibile a incontrarci come è già successo col comandante generale della Polizia Municipale che per bocca del vice comandante Diego Porta ci ha fatto sapere che l'ipotesi da noi portata avanti, proposta, potrebbe essere in qualche modo condivisa come la stessa cosa è stata fatta anche da tanti presidenti di municipio e da tanti altri istituzionali e anche altri appartenenti al corpo di Polizia Municipale come per esempio l'ex comandante del XVI Municipio, Carlo Giovagnorio che era disponibile a un trasferimento di questo tipo è una cosa molto importante, è un provvedimento importantissimo da cui non ci sentiamo di prescindere, non si può prescindere da una situazione di questo tipo assolutamente perché la corruzione, la concursione dei vigili può portare a casi di omissione, omissioni e illeciti di ogni tipo che non garantiscono sicuramente l'articolo 97 della Costituzione italiana che è proprio il principio di imparzialità e trasparenza nell'esploramento della funzione amministrativa perciò noi chiediamo, ripetiamo, ripeto ancora la funzione della sede del TG5, il centro palattino di Mediaset ripeto che la nostra proposta non può essere non accettata trasferimenti periodici ogni tre anni dei vigili urbani che appartenenti appunto al corpo della Polizia Municipale e dei dipendenti uffici tecnici comunali a garanzia, ripeto, di trasparenza e legalità imparzialità soprattutto perché soltanto con questi trasferimenti si può evitare la collusione sul territorio e le connivenze annesse chiaramente questo va a vantaggio, ripeto, del corpo stesso della Polizia Municipale dall'immagine appunto del glorioso corpo, degli uffici tecnici appunto capitolini e a vantaggio soprattutto della maggior parte di quei dipendenti, di questi comparti lavorativi, professionali che invece svolgono il proprio lavoro con abnegazione e con senso del dovere perciò contro la corruzione, contro la concussione, contro le omissioni e gli illeciti spesso, che la cronaca spesso ci tramanda spesso perpetrati appunto da vigili urbani e da dipendenti di uffici tecnici aspettiamo che Alemanno rompa questo silenzio questo silenzio assordante non degno chiaramente di un'amministrazione che vuole perseguire i fini di legalità e giustizia nella nostra città, nella nostra gloriosa capitale